Su un rigore nettissimo, poi abbiamo rischiato in qualche circostanza, però poi sono stati bravi ragazzi a chiudere la partita nel secondo tempo perché non era facile, abbiamo trovato una squadra che ha combattuto fino all'ultimo. I due innesti che hai schierato quest'oggi, in particolare del giudice, insomma, come è andato a centrocampo? Un giocatore che ha geometrie, un giocatore che noi cercavamo, un giocatore che ti dà comunque i tempi di gioco. Anche in questo campo è riuscito comunque a dare quella qualità che ci mancava in mezzo. E ovvio nel secondo tempo l'ho dovuto togliere perché l'arbitro aveva preso di punta e quindi ho preferito non rischiarli, in virtù anche stavamo già 2-0, quindi il ragazzo comunque un ottimo esordio in un campo difficile. Sì, diciamo che noi il primo tempo è stato un po' non male, però abbiamo avuto quei due episodi un po' discussi perché secondo me il ragazzo nel rigore non ci stava, punizione neanche, però diciamo che 2-0 era un po' pesante il primo tempo. Secondo tempo siamo entrati con il pillo giusto, abbiamo fatto 25-20 minuti alla grande, secondo me con 4-5 occasioni pulite per fare gol, per riprendere la gara e non è andata bene. Poi sai che il calcio è tremendo perché poi hanno fatto il terzo gol su un'azione di ripartenza e poi dopo hanno sfruttato gli spazi che ci avevano dato, però se la prima mezz'ora i ragazzi ci posso dire sono veramente bravi e se riuscivamo a fare gol secondo me ci mettevamo in partita.